bloccare direttamente una cartella sul tuo pc quindi in questo caso io adesso provo a cliccare questo comando .bat premo y per bloccare così la cartella questa è la cartella che ho creato quindi è una cartella bloccata quindi se provo ad accedere dentro mi dice che non ho i permessi quindi non posso accedere a questa cartella quindi se vado a cliccare di nuovo qua sopra metti la password ho messo questo tipo di password per farti un esempio entro nella cartella come puoi vedere posso accedere alla cartella e accedere così ai miei file e alle mie cose personali quindi in questo caso in descrizione ho lasciato direttamente il comando che dobbiamo inserire per creare così un documento di testo tipo facciamo così adesso prendo queste tre immagini cancello tutto quindi cancello tutto quindi andate a creare così una cartella quindi una cartella qualsiasi ci mettete le vostre cose dentro però se non siete sicuri di fidarvi di questo video potete sempre fare un test quindi prende un'immagine un file lo metti in una cartella quindi prendo questi tre li metto qua dentro entro in questa cartella creo così un documento e all'interno di questo documento ci metto il comando ecco il comando qui devi mettere la password quindi io adesso metto una password qualsiasi faccio file salva con nome la chiami password protector punto bat la mettiamo così nella cartella nostra quindi file personale la mettiamo qua facciamo salva chiudiamo qua se non c'è aggiornate così la cartella eccola qua password protector questa qui ora se io adesso vado a cliccare sopra e aggiorno così la cartella mi esce così la cartella locker ok io adesso ci vado a mettere i miei file importanti immagini ora che ci ho messo così i file dentro qua clicco qua sopra e dico sei sicuro di bloccare così la cartella premo y per bloccare la cartella adesso ci vado a cliccare dentro non posso accedere non posso accedere se in questo caso provano ad accedere al tuo pc o te lo aggrano o provano ad accedere a una cartella quindi in questo caso quel documento che trovi qua dentro devi cancellarlo ok quel documento che sta qua se sta qua dentro lo devi cancellare per chi vuoi è facilissimo capire qual è la password ok quindi quel documento che sta qua sopra lo cancelli fai rimanere solamente password protector più la cartella locker e basta tutto qua quindi la cartella file personali la puoi tenere qua sopra se provano ad accedere io ci clicco dentro file personali questa è la cartella dove tiene codici bancari facciamo così codici bancari ci clicco sopra voglio vedere cosa sono cosa c'è e non posso vedere quindi vado a cliccare qua sopra e mi chiede così una password qual è questa password la password che ho messo è questa una password che ho creato così e posso accedere alla cartella ok ovviamente su youtube ci sono tutorial su come bloccare la cartella però fanno più tasto destro sopra mostra altre opzioni proprietà avanzate e fanno questo criptografia contenuto per la protezione dei dati fanno questo fanno ok poi bloccano la cartella però non mettono una password io direttamente ho fatto la guida su come bloccare una cartella con una password ovviamente questo metodo non è mio però funziona alla grande veramente funziona alla grande ci posso anche mettere file importantissimi se provano ad accedere alla mia cartella e li ho fregati per bene quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao